Buonasera a tutti, io sono Favi J e oggi andiamo su Drive che fa 17. Vediamo cosa succede. Andiamo a fare la formazione, faremo la 433. Prendiamo Di Maria, poi abbiamo preso i cardi. Poi prenderemo Rigori, De Rossi e prenderemo Mengolan. Prendiamo Mota, poi prendiamo Jume Costa, prendiamo quello del Paris Saint Germain. De Rossi, oh non ho preso i due alberi. Prendiamo Valerica. Scusatevi ragazzi, però ho aspettato un attimo. Prendiamo Mota, poi come portiere vediamo chi è. Giorreina, Don Serreina. Ok, questi sono quelli che devono stare in campo. Poi metteremo il panchino. Poi prenderemo Maldi. Poi prenderemo Miller. Embolo. Danilo Perepira. Insigne, che lo metteremo al posto di Rigoni. Poi prenderemo Isco. Poi la leggenda che sarebbe Donovano. Poi prenderemo Neymar. Poi, De Sanchez. Diego Costa. Guarado. E sono finito. Andiamo a vedere che mi dice. Facciamo finish. Mi dice 159. Le nuove più forti sono di Maria Nengolan e Silvia. E taglio un po' Silvia. Facciamo play. Start. Male. Malissimo. Benissimo. Malissimo. Malissimo. L'abbiamo finita. 2 a 1, come vedete. Poi vedremo chi esce. Questo sarebbe Luca Q. Poi sarebbe... Aspettate ragazzi, metto un attimo in paio. Ricontinuiamo il video. Burrash. Poi vedremo... Poi vedremo che questo è della me... Wow. Non sapevo come si leggeva. Poi facciamo close. Ora vediamo... Roma, America. Aspettate un attimo. Ma adesso lo stai facendo. America, Roma. Zero al duo per l'America. Poi ci vedremo al prossimo video. Bello a tutti ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.